Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi dirò le cose che farò, le idee scartate, le cose che farò in futuro e alcune cose speciali. Questo qua è il quarto tentativo di fare questo video. Una delle idee scartate sarà Pokémon Perla Splendente, perché non ha fatto molto successo. Quindi a chi piaceva mi dispiace, però non ha fatto molto successo. Forse farò il quinto in cui distruggo Pedro, forse però è del 3%. Un'altra lega scartata sarà la serie in cui torturiamo Pikachu, perché nel primo episodio c'è un mi piace perché l'ho messo io. Nel secondo ce n'era soltanto uno e l'altro e ce n'erano due perché l'uno l'ho messo io. Quindi, addio a torturare Pikachu. Un'altra serie sarà quella in cui vi faccio vedere i miei giocattoli. Il primo episodio e anche il secondo. Forse ne farò un altro, ma siamo più sul no. Vi avverto. Molto di più sul no. Le idee che vorrò fare? Una serie di Minecraft. Cioè, non vuoi una spiegazione. Un'altra sarà per il 50% una serie di Fortnite, perché mi vergogno perché faccio schifo, c'ho ancora la skin del nabbo. Guardate che non mi criticate, vi prego. Un'altra serie che vorrei aggiungere sarà, ma non ne sono al 100% sicuro, una serie su un altro videogioco che lo scoprirete più avanti. Quindi, voi direte, ma Leo, perché ce l'ha detto? Per darmi fastidio, così direte. E quando esce, quando esce, quando decidirà. Uscirà, forse, il prossimo anno. Un'altra idea è, e adesso vi dico le cose speciali. Dato che per me già 100 iscritti sarebbero esageratamente esagerati, potrei fare un altro video speciale. Vedete, ma fallo almeno di 100.000 iscritti. No. Ci arriverò quando avrò 80 anni a 100.000 iscritti, secondo me. Quindi, meglio di no. Forse 100 iscritti mi fanno una cosa. E forse sui mille in poi potrei farmi un'altra cosa speciale. Ok, ve lo dico. Per 100 iscritti potrei fare il Draw My Life. E vi avverto che sarà triste. Mi scherzo, sarà bello. Molto bello sarà questo Draw My Life. Interessante. Quindi, vi avverto. Fatelo, fatelo, fatelo. Fatelo. E un'altra cosa è, appunto, sui mille in poi, in un mille in poi, potrei farvi vedere la mia faccia. Ecco, ho scoperto che non è che se faccio vedere la mia faccia, perché esistono persone che fanno vedere la faccia del loro figlio, che hanno massimo quattro anni o cinque bambini. Quindi, posso farli vedere. Poi vi farò vedere la mia faccia. Così potrò tornare in tranquillità. Spero che il video... Lo so che il video è stato corto, ma... Era un po' più... Era diverso il confronto degli altri. Quindi, mettete... Iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace in questo video. E... Ciao!